Sostenere l'arte contemporanea per distillare ottimismo. Roberto Castagnar esortisce così all'inaugurazione della mostra Empty Eden, che trova spazio al museo di casa Gaia da Camino di Porto Buffolet dal 2 ottobre al 31 gennaio. Un appuntamento che la distilleria di Vazzola ha deciso di sostenere concretamente. In questo momento non basta solo produrre prodotti, ma bisogna produrre emozioni, nel mio caso distillare ottimismo. Proprio la sponsorizzazione di una mostra, di una pittrice, ho definito questa cosa, aggrappiamoci all'arte. È un modo proprio perché la produzione, il mondo dell'impresa, deve ritornare all'arte, è quello che in questo momento qua sta perdendo. In mostra opere inedite ed alcune grandi tele della pittrice Sonia Ross, eccellente e profonda pittrice dell'inconscio che vive e lavora tra Venezia e Vittorio Veneto. È una mostra straordinaria perché esprime nello stesso tempo una inquietudine e una tranquillità. Sono delle pitture estremamente facili e nello stesso tempo difficili da capire perché ogni persona vi può vedere quello che vuole, quello che è il riflesso della propria personalità. Porta il titolo di Empty Eden, il significato è un Eden vuoto, quasi come un contenitore, come un mondo nuovo, vergine, dove io inserisco le mie visioni, i miei colori, le mie creature. Quella promossa da Roberto Castagnar è un esempio di cultura d'impresa che esce dall'azienda e abbraccia l'arte contemporanea, un segno di positività per tutta la società. Dobbiamo pensare che oggi è una teta di festa, perché portare la gente dentro di una mostra non è facile, creare ottimismo non è facile, mettere insieme proprio il mio mondo, il mondo, diciamo così, dell'emozione della distillazione, l'emozione comunque del gusto, questa emozione anche visiva e che ispira comunque delle cose buone, sia quello che possiamo dare in questo momento a una società che è in difficoltà e che ha bisogno di stimoli buoni. Credo che l'arte può finalmente ritornare e andare avanti e riempire tutte queste ansie, cancellare un po' di ansia.